Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Eli B, che mi chiede di parlare del film iraniano del 2003, scritto da Abiyash Kharostami, Oro Rosso. Oro Rosso, iraniano, prima fotografia meravigliosa, una messa in scena realistica bellissima. È la storia appunto di Ali e Hussein, che sono due amici che si barcamevano nel modo più possibile per accimolare due soldi. E a Hussein portare pizze a domicilio e tutto il resto, e però sogna un mondo per lui più ricco, una ragiatezza che non potrà mai avere, e quindi decide di fare una rapina. Allora, la trama è tutta qui, se vogliamo. Il film inizia già in realtà a livello circolare, appunto come Nel Cerchio, altro capolavoro, come questo Oro Rosso, che è un filmone. Inizia in maniera circolare, cioè con la rapina del nostro, e poi si torna a flashback e ci fa vedere come è arrivato appunto a questa rapina. È un film in realtà fatto di incontri, incontri che il nostro fa durante i suoi viaggi appunto per Teheran, le persone che incontrano ciò che si trova davanti, ci descrive in realtà una società, ci descrive una chiusura mentale enorme, ci descrive un mondo a noi che sembra così estraneo eppure a volte molto occidentalizzato, specialmente se si hanno i soldi. Dopo quell'inizio lì, con quel piano sequenza lì, macchina fissa, è impressionante poi come si torna indietro, appunto con questi flashback, è impressionante la tecnica di Jafar Panay, che è altissima, bellissima, una sceneggiatura enorme che scava dentro appunto gli uomini, le loro passioni, la loro ricerca della felicità attraverso il possesso, attraverso il consumismo, attraverso i soldi e questo porterà il nostro a fare un getto estremo che pagherà molto caro, perché poi è meraviglioso come mette in scena tutti i personaggi, le situazioni, chi incontra il nostro, come ho detto, ci sono alcune scene memorabili nel film, veramente memorabili. L'ultimo quarto d'ora è da Cardiopalma, un film drammatico, su una condizione realistica che è girato in una maniera assolutamente unica. Già si vedeva, ma già col cerchio, che questo è un regista con i controcazzi e anche gli ultimi film, Taxi Day, Ryan e Vina, sono qui a dimostrarlo, insomma. Questo è un regista che riesce a raccontare il suo mondo in modo così pulito, così limpido, mai manicheo, cerca di trovare anche il buono, cerca di trovare il cattivo, cerca di trovare tutto quello che può per poterci raccontare la sua storia, quella che vuole raccontare, appunto, scritta da Chiaro Stami, ma che lui mette in scena con una mano unica. Quindi, seguendo la scuola del neorealismo, praticamente quasi, rosselliniano, il nostro porta a casa un filmone, un filmone di quelli che non si dimenticano proprio, uno di quei film che dimostrano un'altra volta come a volte gli effetti speciali e tanti rincorsi non servono niente nel cinema, quando si ha qualcosa da narrare e raccontare. E qui, il nostro iraniano lo racconta di lusso, proprio in una maniera talmente ben fatta al suo quarto film che sembra che ne abbia fatti già 40, ma se guardiamo il suo film precedente e altri film come il cerchio, ho detto, sono tutti bellissimi e continuerà una grande carriera. Quindi per me questo Horror Rose 2003 di Parani è un grandissimo film, uno dei migliori film degli anni 2000 e dimostra un'altra volta come questo regista iraniano che sia una spanna sopra molti altri ben più riconosciuti dalla massa. E quindi che vi posso dire? Per me il link è qua sotto, è un film indispensabile, è oro rosso, un filmone incredibile che praticamente quando uscì un po' di scalpore lo fece, ma come per tutti i film d'autore, insomma, sembrano quasi dopo due anni non esistere più. Invece se volete il mio consiglio, questo filmone incredibile con un personaggio, quello di Usain, che secondo me è già nella storia, è assolutamente da avere. Come ho detto, il link è qui sotto, può fate voi.